io un ragazzino più piccolo che ho detto wow figo come lo farei amore mio a me ma la dentro c'è acqua c'è davvero del moe me la dissi ti puoi far vedere? no è liquido perché no mi dio cane? no mi dici decrescenzo no ma palesemente era un'abbreviazione Pietro ma grazie all'usario per il prime palesemente era un'abbreviazione Pietro dai ma come fa come fa come fa non mi permetterai mai ok senti no mi fai tu ah no no vai gay scusa ho visto passare uno gigolò mi pare dietro direi poco fa però no no è andato via è andato via è andato via ok scusa adesso no mi qua partiamo col botto qua con te stasera c'è non ho capito bene la dinamica in generale non ho capito se è la tua crush o se sei tu la sua crush però dovrei capirlo pure io scopriamolo capiamolo che cazzo c'entra che cazzo ciao non so la sua crush scusami no 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 non credo siano loro la sua crush ciao come ti chiami? ma perché vedo così piccolo? oh piccolo un cazzo piccolo ma vediamo le parole mi vedo tipo così non è piccolo qualche anni hai? zecca? 16 zecca no troppo zecca non l'hai chiamato? zecca zia no no ho sentito questo zia no piccolo zecca cioè non so vuoi insultarmi la madre adesso per caso cioè non capisco vabbè non è brutto soprannome sentiamo parto col botto parto col botto dove si trova Israele? no io non voglio parlare di questi argomenti sono d'accordo e vediamo di parlarne per favore una cartina geografica una domanda di cultura generale una domanda di ok dove si trova l'Egitto? allora Egitto in Africa ma tipo? in Africa sopra c'è in bassa l'unità ok brava non me l'aspettavo al confine col Marocco qua sopra tipo nella cartina geografica posso dire qua sotto? qua brava brava non ne capisci un cazzo non ne capisci ma giusto non ne capisci un cazzo vabbè giuro vabbè giuro vabbè giuro lascia stare guarda lascia stare vabbè giuro datevi una cartina e ve lo mostro la cartina non è il caso in live poi c'è già un bel bicchetto cosa c'è lì dentro? la cartina geografica ah la cartina giuro cazzo attimo poi è una cartina cosa sono? un cartolaio non ho capito in tutte le case c'è una cartina vero ah sì noi maschi siamo fatti così abbiamo sempre una cartina da qualche parte in ogni caso c'è una cartina eh nella mia ci sono da qualche parte lei è comunque una cavalla lei è un porcone lei è un porcone sì sì pieno cartine filtri c'è tutto c'è tutto c'è il grido che bello sono molto contenta di avervi con ciao sempre noi amore ma li hai visti prima non è che sempre noi sei emozionata perché mi sono mancati mi sono mancati anche tu mi sei mancata oh regà mo vi dico questa cosa io e Naomi ci conosciamo da anni tantissimi nooo tipo quattro lei è la prima ragazzina che mi volevo fare posso dirlo migliore amica anche lei lei è la prima ragazzina che mi volevo fare è stato il primo l'ho detto a tutti l'avevo detto a tutti ti ricordi? non me la ricordo allora se come vi è tu l'avevi visto a un bar ma come è stata sta cosa? piano con le parole Tommy forse le hai detto a tutti tra le gambe io non diciamo quanti anni avevo fatto no mi non ho capito grazie Rosario ma e perché io non lo sapevo il primo ragazzino più piccolo che ho detto wow figo me lo farei e perché non l'abbiamo mai fatto? ma qua che ci ho mandato fuochi su Instagram cioè io gli vi amo ma io lo so ingenue io non capisco mi faccio amicizia no scusami no scusami io non ce la faccio questa cazza va bene va bene ci vuole insegnare ci vuole insegnare ci vuole la farfalla qua ecca spiega un attimo lei da solo con i mister che gli spiegano tu robe mister credo che qua ci sia stato proprio un errore di comunicazione io non riesco a capire le donne quando mi mandano dei messaggi cioè magari adesso adesso un po meglio però al tempo al tempo non l'ho proprio capito io questo allora mettiamo una foto magari un po così un po e subito c'erano i miei fuochi tutte le mie reaction da provo cazzo non me ne so non è che mi sembra una che no dobbiamo essere diretti dobbiamo essere una donna deve dire cosa deve dire non ho capito perché non l'hai fatto effettivamente da lui scrive gli senti ma scopiamo e lui ti avrebbe detto sì probabilmente no vabbè ovviamente ma io lo vediamo proprio poco interessato cioè proprio non mi si filava no amore se non avevo proprio percepito allora ah dici che non hai percepito che la tipa che ha solo foto col culo e le tette di fuoco ti mandava una reazione col fuoco a tutte le cose che mettevi sì ma allora è anche allora c'hai pensato a staccato minchia il padavano il padavano il padavano io canto ma è questa allora allora un attimo di ordine vi spiego allora io e Nobi comunque siamo conosciuti abbiamo anche stretto tanta amicizia quindi capito c'era nel senso mi piacciono i ragazzi così eh sì ho capito adesso capiamo perché lei le singole scrivono in chat forse forse è un problema forse questo potrebbe essere il motivo ma dici il fatto che non riesci a capire bravo 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 questo è il nome giusto va che me lo metto anch'io aspetta allora oltre a parlare di duo di giocatori no c'è un altro duo di giocatori in questo momento nel backstage c'è un duo oh vediamo chi è dai vediamo chi so leggi il mio nome prima anche quello di Pietro anche quello di pustilele in che se dai no l'ho visto l'ho messo ah hai visto il mio ok eh sì a me posso dire che posso dire che a me non mi piace questa meme ho letto tu hai letto leggito il fatto che tu sei un pustilele non ti piace ma dici che il nome pusti è vicino al mio nome perché c'è comunque qualche motivo c'è dietro ma tu ci siamo ripetuti sono a pusti sono a pusti ci ripetiamo sempre mister nel tuo eh stai nel tuo mi raccomando comunque vi presento questo questo duo di giocatori che ieri ha fatto il culo ai mister di zona un applauso al doc e dale grazie Ricky per il prime lasciatemi qua abbiamo moccassino d'oro moccassino d'oro oh se non l'hai chiamato il moccassino doc no mi posso dirti una cosa se mi inviavi a me i fuochi su Instagram ti faccio vedere la quercia io peccato che me lo inviate a me il doc rientra così in live no capito il doc rientra così in live ma perché non ti conoscevo oh il titolo della live è squadra che vince non si cambia e non si cambia no il modulo la farfalla mi sa che non l'abbiamo tanto vinto noi no cosa nomi raga fate parlare a nomi fate parlare a nomi no 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 perché intanto dopo la serata ho fatto delle cose anche verso di te like tattico segui queste cose ma chi ma chi a te doc a chi mi pare amore mio a me mi pare niente che anche tu stessa cosa ma ce l'hai con me poi cosa ho sopravvalutato i ragazzi ma con chi stai parlando nomi con il doc casuale con te con te grazie non puoi indicare lo schermo e dire con te devi dire il nome cazzo sta già friando con chi sta friando con il doc aaaaaa e tu gli ho detto tu gli ho detto se avessi inviato i fuochi a me non mi pare che tu non mi pare che tu me l'hai inviato perché se mi avevi inviato il fuoco a mero a fianco col bicchierino di champagne a fianco a te ora ci hai inviato altre cose insomma non ci hai inviato i fuochi ho fatto altre mostri non è così ma non l'ho fatto visto allora nomi nomi il doc lo segue il doc non segue nomi eh la seguo augustiamo la vista perché questo è un gol facilissimo questo è un gol alla porta vuota praticamente è un bel periodo che mi mangio gol io ho preparato scusa tommy vai parla ma io voglio capire perché i nomi su Instagram si chiama nomi selvaggia allora perché il mio secondo nome in realtà i documenti però sono cresciuta il cazzo di nome è selvaggia no perché mia mamma mi diceva sempre quando ero piccola ti dobbiamo chiamare selvaggia non nomi perché sono po' selvaggia per me come nome piuttosto che selvaggia ci sarà molto meglio sbuciona 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 allora io questa sera scusate questa sera ho preparato ho preparato delle delle interruzioni